Ho avuto l'udienza col Papa, mi ha... Non riesce a proseguire Lucia Uva. L'emozione per quella mano che a lungo Papa Francesco le ha tenuto sul capo è ancora troppo viva. Sorella di Giuseppe Uva, il 43enne, morto in ospedale nel 2008 dopo essere stato fermato ubriaco in strada dai carabinieri e trattenuto alcune ore in caserma a Varese, Lucia ha incontrato Bergoglio sul sagrato di San Pietro al termine dell'udienza generale di oggi. Io lunedì alle 4.20 ho spedito il fax e sabato alle 11 mi è arrivata la telefonata dal Vaticano dove mi comunicavano che io avrei avuto l'udienza col Papa, che mi avrebbe ricevuto. Lui mi ha stretta, mi ha dato delle parole molto belle, mi ha detto, e mi ha detto di pregare per lui. Io sono qui oggi insieme alle mie sorelle, Ilaria Cucchi. Lucia Uva è convinta che il fratello sia morto in seguito alle violenze subite in caserma. E sono stata qui anche con Luigi Manconi accompagnata, perciò per me questa giornata qui è molto significativa e molto importante perché ci sono con noi anche tutte le altre mamme, sorelle e fratelli che stanno piangendo i loro cari e che gridano tutti giustizia come la sto gridando io. Lui mi ha detto delle parole che voglio tenermi per me. Sono parole che riguardano suo fratello? Sono parole che riguardano tutte noi, tutte le vittime dello Stato. Dobbiamo pregare per lui.